Grazie Presidente. Abbiamo già discusso in quest'Aula la questione del tema della cocciniglia e del problema che genera sui pini di Roma Capitale. Credo che le opposizioni non vogliano proprio ascoltare quello che in realtà è stato fatto da questa amministrazione e le conclusioni che ci sono state nella Commissione che ha preseduto in modo perfetto il Presidente Daniele Diaco. In questa Commissione sulla cocciniglia noi abbiamo invidato tutti i massimi esperti che c'erano a livello nazionale, abbiamo invitato il Ministero delle Politiche Agricole, la Regione Lazio, il Comune di Roma, c'è stato l'Ordine degli Agronomi. Dunque questo tema si sta affrontando con assoluta serietà e assoluta predisposizione a risolvere la questione. E' stato detto, lo devo ripetere, in quest'Aula dal rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole che molto presto tutti i soggetti dicono che questo è un problema molto grave, che in tutta Italia si sta avendo delle ripercussioni e una soluzione vera, immediata, in questo momento non c'è. Si sta tamponando il problema. A me personalmente ha fatto piacere sapere dal Servizio Giardini di Roma Capitale le azioni che stanno intraprendendo per contrastare nei limiti del possibile questo fenomeno e ascoltare l'Ordine degli Agronomi che più rappresentanti hanno sostenuto che l'agire del Servizio Giardini di Roma Capitale è assolutamente corretto. Per cui già questo è una cosa importante. Il punto è che il Ministero delle Politiche Agricole sta predisponendo delle linee guida, delle istruzioni da dare a tutte le Regioni su come comportarsi nel breve e nel lungo periodo su questo fenomeno. Il rappresentante del Ministero ha dichiarato in Commissione che è prossima all'uscita di queste linee guida che verranno immediatamente distribuite in tutta Italia, a tutte le Regioni e a tutti i Comuni e solo allora noi potremo quantificare l'impegno economico per risolvere questo problema. Fare azioni preventive al buio come sta facendo questo emendamento di Fratelli d'Italia non è opportuno perché bisogna fare una valutazione vera, puntuale. Per questi motivi e per la serietà con cui si sta affrontando questo tema questa maggioranza voterà no a questo emendamento. Grazie.